Buongiorno, ieri siamo stati alle terme e mi hanno obbligato a non registrare quindi non ho potuto registrare nulla, l'abbiamo saltato ogni giorno. Oggi stiamo andando a fare il giro dei paesini del Chianti, quindi andiamo a molte regioni. Buongiorno, San Gimeno, Occidenta, dei più Chianti, e altre cose. Per oggi abbiamo fatto una piccola deviazione sul tema, ovvero di solito usciamo prima di pranzo oggi usciamo per pranzo, quindi stiamo andando direttamente al ristorante, ci cimpiamo e poi iniziamo il giro. Non è neanche bellissimo il tempo, quindi non fa troppo caldo, però io sono uscito comunque a mettermi in una camicia imbarazzante così sono contento, ci sono i giovani incendi che sono pronti, adesso si va, bella lì! Ciao! 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 Siamo arrivati al ristorante, ma Tuccio ha avuto la geniale idea di fare la camminata per andare sulla terrazza panoramica prima di mangiare, con 452 gradi all'ombra, grazie di una cucina che ha avuto. Quindi noi andiamo prima su, poi alla fine della discepe che abbiamo preso una vietta. Alla fine della vietta tornando giù c'è subito il ristorante, però non so quanto sia lunga questa salita per arrivare alla terrazza panoramica, sempre che ci sia una terrazza panoramica. I guerrieri sconfitti si accingono a tornare al loro ristoro. Siamo riarrivati al ristorante. Altro giorno, altra osteria? No, più che osteria, trattoria pinta, trattoria fulrofei, evitando il cibo. Con il versione dell'uitura dell'uitura pinta, trattoria pinta, trattoria pinta, trattoria A pelle, pulare, pulare, al relationshipse, vediamo prima Minせ Jas- E questa Kiana grandeедica è un mal себя Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.